Si chiama infodemia la circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non verificate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare fonti affidabili. E' quel che è accaduto all'informazione con l'avvento del digitale, che ha ampliato le prospettive e aumentato le potenzialità legate alla comunicazione in rete, ma anche i pericoli di finire nelle sabbie mobili della disinformazione a cui neppure il settore della cultura può sfuggire. Comunicare la cultura con un giornalismo divulgativo a supporto dei cittadini è stato proprio il tema al centro del convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara, diretto dal professor Fabrizio Fornari, con il patrocinio dell'Ordine Regionale dei Giornalisti d'Abruzzo. L'evento, che si è svolto nell'Aula Multimediale del Rettorato del Campus di Chieti, si è aperto con una lezione magistralis della professoressa Lella Mazzoli, direttrice dell'Istituto per la Formazione e al Giornalismo di Urbino. Certamente la cultura, come tutti gli altri contenuti, ha bisogno di strumenti straordinari per essere comunicati e per raggiungere le persone. Quello che è importante non è soltanto trasferire l'informazione culturale, ma arrivare al cittadino e rendere il cittadino partecipe dei fenomeni e della cultura in generale. Io dico sempre che il digitale è uno strumento straordinario ed è una grande opportunità per tutti. È vero che ha prodotto una gran quantità di informazione, un accenno alle fake news, all'informazione non corretta, credo che sia opportuno farla, ma penso che oggi per poter attivare la partecipazione del cittadino lo smartphone, per esempio, sia senz'altro importante, se non addirittura fondamentale. Quante volte noi viaggiamo e riusciamo a aggiungere dei contenuti culturali attraverso il cellulare. Questo in passato non era possibile e questo fa sì che il cittadino sia sempre più partecipe ai fenomeni e ai contenuti culturali. Stefano Pallotta, presidente dell'Ordine regionale dei giornalisti d'Abruzzo. Comunicare la cultura è importante, ma spesso anche nell'ambito del mondo della digitalizzazione, che ha aperto sicuramente nuove frontiere, bisogna fare attenzione poi a non cadere nelle trappole delle fake news. Quello che rilevo è che c'è un clima per cui ogni cosa che viene detta non è suscettibile, come dire, di verifiche o di smentita. Per cui qualsiasi cosa si dica sul digitale può andare bene. Poi ci sta chi la condivide, chi non la condivide, ma in generale nessuno la mette in discussione dal punto di vista scientifico, dal punto di vista dell'invalidazione ipotetica. E questo è assolutamente da scongiurare. Quello della cultura ha sempre affascinato i grandi direttori di giornali, da Bergamini dal Novecento fino ad arrivare oggi ai grandi giornali che hanno abolito la terza pagina. Io credo che la televisione possa dare un grande contributo nel senso di spettacolarizzare la cultura, che non significa banalizzare la cultura, ma significa renderla fruibile a un grande pubblico. E voi della televisione avete una grande responsabilità in questo senso.